buongiorno a voi ragazzi sono joker coca cola anche oggi voglio mostrare un altro dei miei pezzi della collezione coca cola bene è una bottiglia enorme una big bottle è una bottiglia fatta in commemorazione del 1907 tanto è vero che le prime bottiglie della coca cola venivano fatte di questo colore ambrato perché veniva fatto di questo colore perché si aveva paura che il prodotto della coca cola prendendo i raggi solari poteva deteriorarsi prima del previsto è una bottiglia molto particolare perché è stata fatta come è stata creata nel 2000 quindi la coca cola di etalanta ha creato questa bottiglia che è un rifacimento della bottiglia di una volta nel 2000 si può notare un'etichetta diversa da quella di oggi in effetti era romboidale con i caratteri sul blu e la firma del dell'inventore della coca cola il la bottiglia dietro porta una scritta coca cola marchio registrato in rilievo sulla bottiglia e questa bottiglia è molto particolare averla in una collezione e ragazzi alla prossima e buona serata a tutti